TikTok è sulla bocca di tutti, attualmente conta più ormai di 500 milioni di utenti mensili attivi all'incirca la metà di quelli di Instagram ed è balzato in pochissimo tempo al nono posto tra i social network più utilizzati sotto appunto a Instagram e a Facebook però insomma entrare nella top 10 non è cosa da poco quest'anno TikTok è stata l'app più scaricata in assoluto sia sul Play Store che sull'App Store quindi sia su Android che iOS è qualcosa di incredibile, è il fenomeno del momento e quindi in questo video vi parlo un po' di TikTok ma da dove arriva? come ha fatto in così poco tempo a diventare così popolare? beh io ho delle considerazioni da fare qui assieme a voi in questo video e quindi direi di non perdere tempo e di partire subito se siete qui ora è perché probabilmente non conoscete bene TikTok oppure ne avete sentito parlare, non l'avete mai provato in questo video vi faccio vedere anche un po' il funzionamento, appunto come funziona come si possono creare dei video, poi più avanti lo vediamo ma se magari la parola TikTok può non dirvi niente vi faccio risuonare nella testa un certo Musical.ly che in sostanza era un'app dove la gente pubblicava video in playback di canzoni Musical.ly che al giorno d'oggi non c'è più perché è stato fuso insieme a TikTok da ByteDance questa azienda cinese, appunto Musical.ly è stato fondato in Cina nel 2014 TikTok sempre in Cina ma nel 2016 quindi questa azienda, questa ByteDance ha effettuato un rebrand di Musical.ly e lo ha trasformato in TikTok io poi in descrizione vi lascio anche l'articolo scritto dove approfondisco un po' di più la storia di questi due social network TikTok in particolare e appena ho pronto l'articolo ve lo pubblico in descrizione quindi comunque dategli un'occhiata io mi sono sempre chiesto quale fosse il focus di questo social cioè che cosa posso pubblicare, che cosa posso trovare, chi posso trovare e la risposta che ho trovato è di tutto e di più dallo scherzo fatto all'amico al doppiaggio di una scena di un film a Bruno Barbieri che taglia le zucchine a ritmo di musica, è fantastico solo zucchine le regalo alle cugine che diventano piccoline le scuoto le percuoto oppure il remix di Giorgia Meloni che ormai ce lo troviamo dovunque, basta Cosa si può fare su TikTok? Pubblicare solo ed esclusivamente dei video brevi dai 15 ai 60 secondi questo è molto importante, nessuna foto, video brevi ed è un social che mira alla fascia d'età tra i 13-25 anni possiamo dire così quindi questo è un particolare target che fidelizza molto le aziende l'hanno capito e stanno tentando in tutti i modi di targetizzare appunto bambini, adolescenti, ragazzini ed ecco che poi da qui sono sorti tutti i problemi insomma di privacy di tracciamento dei dati per i minori insomma anche TikTok è stata ed è al centro di non pochi problemi lato privacy dal punto di vista della regolamentazione diciamo così comunque TikTok la mission qual è? è ispirare creatività e portare allegria questo è proprio quello che c'è scritto sul sito di TikTok quindi non è che me lo sono inventato, è qualcosa di filosofico insomma è un social che fa ridere, ci si diverte è il classico esempio di social di intrattenimento puro al 100% fino a se stesso che non trasmette niente, che non insegna niente che non porta nulla in più se non promuovere il puro svago mentale e quindi sì, è un social dove potersi svagare dove potersi alienare un po' so che sono stato un po' astratto magari, un po' molto concettuale ecco nel esporvi questo mio pensiero però ci tenevo a fare questo discorso, questo ragionamento e vi prego di farmi sapere nei commenti se anche voi insomma siete d'accordo se la pensate come me, se la vedete in un altro modo perché sapete che mi fa piacere insomma saperlo tra l'altro, mi stavo quasi scordando per questo video ho deciso di usare questo Huawei Nova 5T che a detta dell'azienda è lo smartphone pensato appositamente per i tiktokers allora, per un fatto di coerenza mi sembrava giusto installare tiktok su di lui e tra parentesi è interessante notare come Huawei punti molto su tiktok ci tenga e lo testimonia anche il tour a tema tiktok realizzato appunto da Huawei in questo ultimo periodo e indirettamente ci sta dicendo che c'è un buon margine non di guadagno ma insomma di ritorno soprattutto in termini di immagine, di brand awareness per un'azienda su tiktok ma torniamo a noi perché mi dilungo troppo dicevo solo video, niente foto, non è instagram qui leggevo e sentivo molti dire ecco adesso c'è tiktok, instagram deve iniziare a tremare facebook anche, youtube pure secondo me nessuno di questi può essere un diretto concorrente di tiktok perché tiktok non ha lo stesso focus, non ha lo stesso target, non ha la stessa modalità di presentazione dei contenuti detto ciò però prendo il mio Nova 5T apro tiktok, vado sull'ultimo tab in basso a destra pigio sul bottone registrati ed ecco che mi appaiono varie modalità tramite telefono email, facebook, google, twitter oppure anche con apple oppure ancora con instagram ecco io preferisco usare la mia email quindi adesso devo inserire la data di nascita e adesso vado su email e la inserisco semplice fatto questo il mio account è stato creato, non devo fare null'altro se non verificare l'indirizzo email insomma classica procedura di sicurezza ma adesso prendo sempre la mia applicazione e andiamo sulla home ed ecco che questa è l'interfaccia principale di tiktok il feed in alto c'è seguiti quindi le persone che seguo per te quindi tutti i vari consigli direttamente dall'app tutta l'interfaccia di tiktok è abbastanza semplice anche capirne il funzionamento innanzitutto, vabbè adesso questa è una storia, chiamiamola, è un video d'esempio mi viene a dire storia perché sono abituato ad instagram ed effettivamente il feed è un po' come quello delle stories instagram solo che è verticale e non orizzontale infatti posso scorrere super rapidamente quindi un'immediatezza molto spinta, molto più di quella di instagram sul lato destro partendo dall'alto c'è un primo pulsante che serve per seguire la persona il secondo per mettere un cuoricino, quindi una sorta di like diciamo e viene fuori proprio il conteggio dei cuoricini che ci sono sotto c'è il commento, premendo mi apre tutti i commenti scritti anche qui possibilità di andare a mettere il cuoricino i numeri sono tutti ben visibili al contrario di instagram sotto c'è un'iconcina invece che rimanda all'artista di quella canzone particolare se è collegata ad un artista perché tutti i video di tiktok hanno una base musicale tiktok è fondata su questo, cioè si video, si brevi ma con musica dall'altro lato invece c'è il collegamento all'utente e qui vediamo che ci fa vedere i seguiti, i follower, i mi piace sotto tutti i vari link ad esempio ad instagram, a youtube tornando indietro sotto poi c'è la descrizione e qui ci sono gli hashtag come accade su instagram premendo sull'hashtag mi fa vedere tutti i video correlati a quell'hashtag lì e sotto appunto poi c'è il nome di quella canzone che c'è in quel video poi barra sotto su scopri ovviamente possiamo andare a cercare quello che più ci interessa anche qui ci consiglierà i vari hashtag fondamentalmente è questo quello che ci consiglia il pulsante più nero lo saltiamo un secondo perché andiamo a in arrivo qui fondamentalmente arrivano tutte le notifiche possiamo inviare e ricevere messaggi privati da altri utenti e poi l'altro tab me è il nostro profilo premendo su modifica possiamo cambiare la foto cambiare il video di profilo, il nome, il nome utente e aggiungere una biografia, una sorta di descrizione del profilo e collegare gli account instagram e youtube la base diciamo che è questa adesso premo sul tastino nero centrale ed ecco che mi si apre l'interfaccia per la creazione di video le cose che vi lascio a fare sono veramente tantissime non riuscirei mai ad esplicarvele tutte in questo video non avrebbe nemmeno senso innanzitutto in alto c'è suoni premendo posso andare a scegliere la canzone di sottofondo posso già diciamo iniziare a registrare il mio video possono essere più clip cioè io posso fare una prima registrazione di tot secondi con una certa inquadratura stoppare, farne un'altra e lui automaticamente concatena i vari video li mette in sequenza non solo questo perché sopra al tasto rec c'è la velocità con cui verrà poi riprodotto il video vedendo un attimo la barra laterale a destra poi c'è eventualmente da attivare o meno il filtro bellezza sotto ci sono i vari filtri quindi che vanno a modificare il colore fondamentalmente il look e poi recandoci invece in basso a sinistra possiamo aggiungere degli effetti e qui ci possiamo sbizzarrire oltre a questi ci sono anche ad esempio gli sticker delle animazioni in realtà aumentata anche una volta terminato il video vabbè il mio fa pietà ma l'abbiamo capito premo sul check colorato per dire ok ho finito ma non è ancora finita perché posso andare ad aggiungere anche altri filtri andare a ritagliare il suono andare a regolare il volume posso anche andare a registrare della voce che poi andrà sopra alla musica di sottofondo una sorta di voice over ed ecco che ora posso andare ad aggiungere del testo proprio come accade su instagram e andare ad aggiungere anche sticker ed emoji proprio come su instagram andando su avanti posso aggiungere la descrizione del video aggiungere gli hashtag scegliere chi può vedere il video chi lo può commentare una volta che sono pronto vado su pubblica e sarà online nel giro di pochi secondi io concordo con chi afferma che questa è un'applicazione una piattaforma che sta prendendo molto piede ecco forse questa affermazione non è totalmente vera qui in italia nel senso che deve ancora prendere piede bene manca ancora quella spinta forte decisiva che può portare tiktok a dei livelli di popolarità veramente non indifferenti qui in italia dovrebbe contare un 2 milioni e mezzo di utenti all'incirca e voi invece che cosa ne pensate di tiktok mi raccomando ve lo ricordo ancora una volta fatemelo sapere qui sotto con un commento se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like ma soprattutto ad iscrivervi al canale e ad attivare la campana delle notifiche da Nicolò per Tutto Android è tutto e noi ci vediamo in una prossima produzione ciao 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 ciao